ciao in questo video ti parlerò di come moltiplicare il tuo fatturato per 4 allora questa è una riflessione che facciamo insieme allora innanzitutto se non mi conosci mi presento io sono lorenzo ciscetti dal 2006 ma io mi occupo di aiutare le persone a crearsi un guadagno automatico e ricorrente tramite internet e il network marketing se mi conosci invece insomma non c'è problema ti racconto questa cosa allora mi sono fatto questa domanda ieri come aumentare il mio fatturato per 4 perché questo? perché sapete che Anthony Robbins dice che la qualità della nostra vita è determinata dalle qualità delle nostre domande quindi dobbiamo utilizzare il nostro cervello per farci delle domande che ci portino anche a risultati ambiziosi quindi come aumentare il mio fatturato per 4 come aumentare il mio guadagno moltiplicare per 4 e ho iniziato andare a dormire con questa domanda scusate il sole in faccia ma mi piace insomma un po' di sole in faccia alla mattina ci sta bene oggi è mercoledì 8 forse siamo verso le 10 e mezzo di mattina dal mio sto nel giardino a prendermi il sole volevo fare una diretta ma qua non mi arriva la connessione qua nel giardino ma sto bene qua quindi va bene allora come moltiplicare il fatturato il mio fatturato il nostro il fatturato per 4 quindi anche come tu puoi moltiplicare il tuo fatturato per 4 quindi sono andato a dormire con questa domanda pensando a questa cosa e mi sono svegliato con questa cosa e la risposta è stata ovviamente un'altra frase fatta un'altra fase fatta devo diventare la persona che devo diventare devo crescere come persone devo diventare la persona che la persona che serve per raggiungere questa cosa e l'idea ho detto adesso faccio un attimo una riflessione su tutte le persone che conosco che guadagnano 4 5 6 volte più di me nel netto marketing e ho pensato che tutte queste ho pensato che tutte queste persone hanno una cosa in comune e sta cosa in comune cazzo hanno un sorriso stampato in faccia incredibile vedi dalla vita vedi dai loro occhi la la felicità e da questo punto da qua mi si è ricollegata tutta una serie di cose per esempio il fatto che una frase letta nel libro di cerese voi puoi la negatività distrugge la creatività e anche l'altra un'altra fase di abram x frase che diceva che il successo deriva da quanto siamo felici cioè la felicità è un'espressione del nostro successo e quindi dobbiamo intratto dobbiamo stare noi bene per generare il successo e l'ultimo ancora mi è ritornata e che avevo trascurato detta da anthony robbins più volte che per costruire una grande organizzazione per sponsorizzare per attirare a te le migliori persone devi stare in un beautiful state of mind cioè in uno stato mentale bellissimo e allora cosa ho fatto ho pensato a continuato a pensare alle persone che guadagnano di più cioè sembrano invasate dalla gioia sembrano invasato dalla gioia voi direte ma con tutti quei soldi con tutti quei soldi che guadagnano sono super invasato dalla gioia in realtà non è così sono andato anche a scorrere le foto facebook di quando erano dei poveretti stefano dovalloni direbbe dei perfect barbons e anche quella volta dal loro viso si vedeva la felicità e la gioia anche quando guadagnavano un decimo un ventesimo di quello che guadagnano adesso quindi il mio impegno è quello di stare in uno stato mentale positivo e cercare di essere il più felice possibile perché è da questo che deriverà la creatività in questo modo deriveranno le idee che mi servono e soprattutto le azioni che farò saranno tutto un altro livello quindi controlla il tuo stato quello che ti chiedo è controlla il tuo stato mentale e cerca di essere più felice cerca di come fare per questo essere grato la prima il primo segreto è essere grato le persone che predicano la gratitudine nel mio team sono quelle che nel loro nella loro attività stanno andando stanno andando meglio e quindi stamattina ho deciso di partire in questo modo e mi auguro che anche tu faccia altrettanto già mi sono venute delle idee da applicare grazie a questo e sono certo che continueranno ad arrivarne altre e soprattutto e ovviamente le appliche le applicherò insomma perché per essere felici bisogna anche fare le azioni come dico sempre quando noi agiamo i pensieri negativi se ne vanno quindi detto questo mi auguro che questo video ti abbia dato valore condividilo con le persone che conosci condividilo con il tuo team e se vuoi contattarmi mandarmi un messaggio per conoscerci mi fa piacere ok e farmi domande che mi serviranno un senso di ispirazione per i prossimi video ci vediamo ai prossimi video intanto mi godo un po' di sole se vuoi vedere altri video puoi visitare il mio canale youtube o il mio blog lorenzocicetti.com ciao e un abbraccio a tutti